Siamo qui con Filippo Battistini, Head of Business Development Retail World Sales di Allianz Global Investor, al quale vogliamo chiedere un pochino le prospettive per questo 2020 nei mercati finanziari. Sì, grazie mille. Allora, diciamo che noi abbiamo, un po' come tutti gli asset manager, delle prospettive moderatamente positive per l'anno in corso, anche se chiaramente siamo in una fase di fine ciclo. Questo vuol dire quindi che ci attendiamo sui mercati anche dei momenti di elevata volatilità, delle eventuali correzioni anche per prese di beneficio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che in una fase così matura del ciclo bisogna sapersi affidare a dei gestori professionali che siano in grado appunto di prendere delle scelte di investimento mirate e adeguate a quelle che è il contesto. Come ci stiamo orientando noi in termini di offerta? Noi stiamo sostanzialmente proponendo tre grandi temi di investimento. Innanzitutto soluzioni cash substitute per impiegare la liquidità e per offrire una valida alternativa di investimento rispetto magari a chi preferisce o ha preferito detenere i propri risparmi su conti deposito. Quindi in questo ambito abbiamo delle strategie molto interessanti in grado di performare in maniera positiva anche in un contesto difficile come quello attuale dove i tassi di interesse sono i minimi e detenere liquidità sul conto corrente vuol dire avere un rendimento negativo. In questo ambito, ripeto, noi abbiamo delle soluzioni molto interessanti in grado di performare positivamente qualunque sia il contesto di mercato. Un secondo macro tema rappresentato dalle strategie multi asset. Abbiamo anche qui delle soluzioni interessanti sia a income, quindi a distribuzione regolare dei proventi che anche delle strategie che hanno un asset allocation molto dinamico e molto flessibile. E come ultimo macro tema noi stiamo proponendo attivamente la nostra gamma azionaria tematica. In questo ambito ricordo che siamo stati la prima società in Europa a lanciare una strategia sull'intelligenza artificiale e l'anno scorso siamo stati i primi in Europa a lanciare una strategia sulla pet economy, sulla cura degli animali domestici. Nell'ambito tematico rientrano anche poi le nostre soluzioni ISG ed SRI. Quindi ci stiamo orientando su questi tre macro blocchi e riteniamo appunto che avere un approccio dove da un lato si offrono delle soluzioni interessanti per gestire l'arquidità, dall'altro si danno delle soluzioni che hanno un obiettivo, un orizzonte più di medio-lungo termine sia come dire la scelta vincente in questo contesto di mercato.